La Befana della Biodiversità è arrivata a San Domenico su iniziativa di Casa Tevenin con il favore dei carabinieri forestali. Si tratta di un'iniziativa che viene svolta a livello nazionale da tutti i reparti biodiversità dei carabinieri forestali e andiamo nei reparti di pediatria degli ospedali, negli istituti che ospitano bambini come il nostro qui di Arezzo del Tevenin con il quale collaboriamo da anni per portare un attimo così di gioia, di distrazione, di felicità. Abbiamo portato i nostri amici a quattro zampe che sono sempre graditissimi da bambini piccoli. Penso che questo sia un bel regalo per i ragazzi. Sì assolutamente, i ragazzi che sono sia a Casa Tevenin che ai campi invernali del CSI hanno avuto questa mattinata bellissima grazie ai carabinieri forestali con il poni, con il cane antiveleno. Allora, ricordiamo il nome di questo splendido poni? Lui si chiama Pedro poni. Quotidianamente cosa fa oltre che stare vicino ai bambini? Quotidianamente mangia, esce, corre nei nostri pascoli, si diverte. E allora, però lui invece è uno splendido labrador, non so se è uno a lui o a lei. È un lui, è un lui, si chiama Titan, ha otto anni ed è specializzato nella ricerca di esche bocconi avvelenati. E purtroppo lei sta mettendo il dito nella piega perché soprattutto in certe zone della provincia c'è questa indecenza. La nostra provincia è colpita dal fenomeno anche nel mondo venatorio, nel conflitto con i selvatici e anche in ambiti urbani, conflitti di vicinato. Ross è cattivo. Ross è cattivo. Ah no, era grosso proprio, fatti e lo sento.